Ciao ragazzi, ciao ragazzi! Il cardo, il cardo sarà alla luce, sarà a Ribery, insomma fa un cardo, fa un cardo sabbaia veramente, però vabbè. È fino agosto, sono l'ultime cardane di fino agosto, poi dice alle 5 vieni temporale, tra l'altro alle 5 è presente a Ribery e vieni temporale. O non lo so, magari era meglio se lo spostavano un pochettino, potevano farlo stamattina, però stamattina c'era il primo allenamento, il primo allenamento ufficiale di Ribery con la nuova maglia, con la maglia della Fiorentina, bellissimo. Ieri è stata una giornata pazzesca, è stata una giornata che Firenze ricorderà forse per altri anni, spero dimentichi presto, perché? Perché il prossimo anno ci sarà un acquisto migliore, o anche fra pochi giorni, insomma. Speriamo veramente questa sia la nuova tendenza della Fiorentina, un acquisto del genere, o comunque un abbraccio dei tifosi a un giocatore del genere, non succedeva da Mario Gomez, è detto fra me e te, speriamo non succeda, che Ribery non faccia la fine di Mario Gomez. Però Firenze voleva questo, Firenze si aspettava un colpo, un vero colpo, un pezzo a 90, ecco, io francamente non mi aspettavo Ribery, mi aspettavo più un Suso, un De Paul, un giocatore, un politano di cui si era parlato e che si sta, tra l'altro, continuando a parlare, poi adesso ci si arriva, mi aspettavo un colpo di questo genere, poi invece è arrivato Ribery, che sembrava un sogno, ma invece è stata una trattativa perfetta, perché Pradè è riuscito a portare un giocatore di 36 anni, è vero, ma integro fisicamente, con grandi motivazioni, un giocatore che ha vinto tantissimo e che servirà anche come stimolo a persone come Chiesa, che fino adesso avevano arciato un po' il gallo, poi adesso ci hanno di fronte persone come Boateng e Ribery, e che questi sono giocatori che hanno vinto veramente, soprattutto Ribery hanno vinto, e parecchio, e quindi dicono Chiesino, ritorna un po', ecco, e servirà anche a lui per crescere e consacrarsi. Bene, bene, sono contento, per quanto riguarda l'attacco non è finita qui, perché ci sono giocatori come De Paul, come Berardi, che tra l'altro è Suso, Berardi tra l'altro quello del Sassuolo sembra il più accreditato, io avrei fatto sacrifici per De Paul, però è anche vero che l'Udinese è sempre, sempre, ragazzi, è stata una bottega carissima, non che il Sassuolo te le regala due spiccioli, anche perché il Sassuolo non è che è così contentino di privarsi di Berardi, però sembra che adesso tutti vogliono venire alla Fiorentina, cioè fino a un mese fa nessuno ci voleva venire, adesso invece con giocatori che stanno arrivando e si vede che, francamente il progetto si sta concretizzando veramente, allora questi giocatori sembrano molto tentennali, vogliono andare via da squadre normali per dire, ma sai che questa Fiorentina quasi quasi mi stuzia, mi sconfiffera. Bene, bene, sono molto contento, è quello che volevamo noi tifosi, cioè ridare, e voleva anche la società, ridare splendore a questa squadra e a questa città. Quindi il calciomercato non si sta fermando, nell'ultima ora si sta parlando anche di acquisti in difesa, è spuntato Caceres dal nulla, però francamente spunta in quasi tutte le sessioni di calciomercato. Mi meraviglio che non sia spuntato Cassano, perché sa, Balotelli è già stato preso dai Brescia, quindi un po' più rispuntare fino al prossimo anno. Però Cassano va bene se è ritirato, però sai, ogni tanto magari last minute dice, ma ci ripenso, Fiorentina è interessato, ecco, questi suoni si sanno. Caceres è uno fra questi, è sempre stato accostato alla Fiorentina, poi non è mai venuto, ci sta che stavolta sia la volta buona, anche se è un giocatore che io magari stimavo qualche anno fa, adesso non stimerei, non apprezzerei, però meglio di Dalbert, sì, ecco, diciamolo. Darmian ha rifiutato, ecco, io quando ho visto Darmian mi sono emozionato, però poi ovviamente ho un giocatore giovanissimo, che gioca nel Manchester, ecco, non credo voglia venire alla Fiorentina, non fa coppa e magari se ne parlerà nei prossimi anni, se questa squadra andrà bene. E poi, ecco, ah, poi, una cosa non ho fatto mai vedere, una cosa di cui mi voglio vantare, ecco, lo vedete qua, questi sono tutti i miei, quello è il gileino di quando stavo a Decathlon, però, scusate, però sotto ci sono tutte le medaglie di quando faccio canottaggio, ecco, una cosa, ogni tanto mi voglio vantare anch'io, sai? Sai che? Perché sono tornato nella mia cameretta di Empoli, e qui sono i diplomi di quando sono diventato campione toscano di canottaggio, ebbene sì, è sotto, ci sono tutte le mie medagline, ovviamente c'è anche un po' di Fiorentina, non c'entro un cazzo con quello, con il video di prima, però, anzi, diciamo, c'è molta Fiorentina, però qua ci sono anche tutte le medaglie di canottaggio, ma ve l'ho fatto vedere così a caso. Torniamo a noi al calciomercato, e con questo magnifico sfondo, e dicevo, gli ultimi colpi per assestare, si parla anche di Bonifazi, e non si finisce di parlare di Tonelli, che pare, insomma, questi sono colpetti in difesa per assestare il reparto difensivo, però, ragazzi, bisogna prendere un centrocampista, un centrocampista, una mezzala, dobbiamo prenderla a tutti i modi, che non sia Borca Valero, Borca Valero se viene, se verrà, ben venga, però, ecco, ci vuole un occo contro coglioni per avere un centrocampo pazzesco, poi non so come vorrà giocare, perché, per esempio, ieri, tra l'altro mi è preso un'eccitazione, ieri ho visto le formazioni, e mi è capitato così su Facebook di vedere al centrocampo Pulgar Badel, e poi davanti era praticamente un 4-2-3-1, Ribery, Boateng, Chiesa, e davanti Vlaovic, ho detto, ma che siamo su Football Manager? però ci vuole qualcuno ancora per completare questa squadra che si sta avvicinando alla perfezione, ai sogni, ecco, se si piglia un terzino sinistro, se va via Biraghi, un terzino sinistro, una mezzala forte, che io sono per fare sempre un 4-3-3, comunque, se riuscisse a prendere una mezzala forte, incontrista, perché a me piacciono gli incontristi, perché secondo me ci sa già due mediani come Pulgar e Badel, perché prendere, perché prendere un altro, diciamo, dai piedi vellutati, pigliamo un cazzo, un cazzo duro, tipo come era Nainggolan, o un Demme, ecco, questi giocatori, questi mastini, a me garbano, pigliamo uno per lui, e poi dopo sarebbe il sogno trovare anche un centro avanti, che possa alternarsi con Vlaovic, perché insomma, Simeone, tanto prima o poi, penso lo sfanculeranno. Detto questo, ragazzi, voglio sentire la vostra, e soprattutto voglio sapere se stasera andate a vedere la presentazione di Ribery allo stadio, lasciate un mi garba se non vi hai garbato il video, un non mi garba se non vi hai garbato il video, però con queste medaglie, ragazzi, come, come, guardate, come, come poter dir no, senti come, come scintillano queste medaglie, queste, tra l'altro, tutte queste della valle se ne sogna, forse non la giove merda, ciao! Ciao!